Sono Tony Pellegrino, il cantante del gruppo Zero Project, la cover band del grande Renato Zero. Qui vicino a me c'è Ivana. Ciao, ciao a tutti. Giorno 9 saremo al Sciccaria e quella sera mangeremo una bella tagliata di maialino con salsa rubino. Con pinoli. Chiediamo a Valerio di prepararcela perché è uno chef eccezionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.